Un saluto a chi ci segue sul sito del Quotidiano del Sud, oggi ospite nei nostri studi il professor Stefano Orofino dopo la vittoria del rischiatutto. Buonasera e benvenuto nei nostri studi. Buonasera, grazie dell'invito. Smaltita l'adrenalina dopo la vittoria, dopo quello che è successo o ancora no? Sì, diciamo in parte ancora un po' diciamo sono un po' frastornato. Ancora frastornato all'emozione, però deve essere stata una bella emozione. Sì, diciamo che è stata una rondissima emozione perché come ho già detto in trasmissione era un sogno che avevo da piccolo, quello di partecipare a uno dei quiz di questo tipo, di quelle diciamo stile Mike Bongiorni. E si è avverato. Senta, ci racconta la cosa più bella, al di là della vittoria, un dietro le quinte magari che le è capitato? Ma diciamo che forse la cosa più bella è stato proprio il provino, quello che si è visto, perché è stato realizzato in maniera molto familiare e sono stato molto a mio agio, diciamo. Ed è quello che abbiamo visto sul sito del rischiatutto, esattamente. Quando gli fece la domanda era reale. Sì, sì. L'emozione dell'ingresso in quella sala del provino? Ma diciamo che lei appunto, essendo tutto molto familiare, non ha avuto neppure tante emozioni. Sia la docente universitaria, sia il dottor Peregrini, Fazio, diciamo sono stato molto tranquillo, sembrava di essere appunto a casa a parlare fra me. E poi quando l'ha saputo? L'ha saputo subito? No, diciamo che l'ho saputo a fine gennaio. Il provino invece quando c'è stato? Si è visto, non del 26 febbraio, ma in realtà era stato realizzato il 24 novembre. Ah, un po'. Quindi diciamo c'è stata un po' di attesa. Diciamo che mi è stato detto anche di tenere segreta la cosa perché avrebbero dovuto rendere pubblico l'ora. Ovviamente, ovviamente. Dopodiché si supera il provino, immagino una tanta soddisfazione, arriva questa comunicazione per partecipare alla puntata pilota poi tra l'altro. Quindi credo che sia un carico d'emozione ulteriore. Sì, un'ulteriore soddisfazione, però anche un grande carico d'emozione. Perché effettivamente pensare che un programma che diciamo era stato un cavallo di battaglia della RAI degli anni, i primi anni 70, che si era chiuso nel 74, mi sembra, che è proprio l'anno della mia nascita, e che rinasce proprio... Con lei? E diciamo sicuramente questo mi ha reso molto emozionato. C'è una domanda che l'ha messa in difficoltà di quella che abbiamo viste in tv? Diciamo, ma quelle sul tabellone diciamo, perché sicuramente erano delle materie particolari, molto vaghe, per esempio quella su Aprile poteva essere di tutto, così come quella del Città e Capitale, poteva... erano diciamo a vasto raggio. Su Città e Capitale avere in studio tra il pubblico un esperto, un po' rodeva un po'. Sì, 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 infatti sì. Invece Fiorello, del quale lei abbiamo notato che cercava in qualche maniera di fargli capire che sua sorella mi pare di aver capito, una sua fan. Veramente anche io ho sempre seguito tutte le sue cose, diciamo mi è sempre piaciuto come personaggio da tutti i punti di vista, come imitatore, come cantante, come showman. Infatti l'unica, la cosa curiosa è che ho sbagliato proprio una domanda su Fiorello riguardante un programma che io ho seguito in tutte le sue puntate, il più grande spettacolo dopo il weekend, è stato un lapsus dovuto a un errore di calcolo, mi hanno chiesto cinque anni fa, io in quel momento pensavo siamo nel 2014, non so perché mi è venuto dimenticare. Si è fatto il calcolo al 2009, il 2009 era su Sky. Ma perché lei è un uomo di lettere fondamentalmente, non è un uomo di numeri. Oddio! Sì, diciamo che veramente ho sempre avuto una grande capacità di memorizzazione di numeri, di date, non so se ho notato prima, l'ho detto il 24 novembre e il 26 febbraio. Queste sono date che si ricordano assolutamente. Ma in generale io mi ricordo sempre le date su qualsiasi evento. I compleanni dei suoi familiari non li sgarra, assolutamente, così come quelli dei suoi amici. Senta, perché la Juve e non Battiato? Perché abbiamo scoperto che lei è appassionato anche di Battiato. Sì, allora, io sono appassionato di Battiato, però diciamo che sicuramente la cosa più viscerale, che è più legata a tutto il corso della mia vita è sicuramente la Juventus, perché sono tifoso della Juve da quando avevo 8-9 anni. Si ricorda il giorno preciso? Allora, potrei dire, se non proprio il giorno preciso, la prima partita in assoluto che ho guardato la ricordo, non era della Juve, Italia-Perù, seconda giornata del campionato mondiale dell'82. E c'era il blocco Juve, tra l'altro in quella nazionale. E quindi io mi sono molto legato a quella squadra, al blocco Juve, soprattutto a alcuni giocatori, soprattutto Zofshir e anche per questione di carattere. E poi la squadra che ha giocato l'anno dopo, la Juventus che ha giocato l'82-83, anche se poi ha perso la Coppa dei Campioni, la finale, come l'anno scorso, però è una squadra a cui sono molto legato. Ma lei era uno di quelli che da ragazzino faceva la collezione di figurine, che si conservava e si conserva magari ancora... Ora no, però ancora almanacchi di quel periodo sicuramente, sì, è la storia della Juve che ho comprato in quel periodo, libri di storia della Juve che ho comprato in quel periodo, il giornale ufficiale della società, Urra Juventus, degli anni 80-90, ce l'ho... Aveva la stanzetta piena di poste? Sì, e ce l'ho ancora chiuso, diciamo, nel cassetto. Senta, torno un attimo, qui diceva invece Battiato? Battiato, diciamo, è nata dopo, quando avevo 18-19 anni, poi ho cominciato a studiare filosofia, sicuramente ha influito su questo anche l'amore per Battiato perché è un cantautore che tratta molti temi filosofici. Quindi ha la passione da adulto, diciamo, e quindi ha scelto la Juve perché ha una passione che mi accompagna per tutta la vita, anche a quelle della Rai, l'ho detto, è una costante nella mia vita, diciamo, nonostante i vari cambiamenti nel modo di pensare, nel modo di vedere il mondo, però una cosa che è rimasta costante nella mia vita è il TV per la Rai. Ma lei in TV ha spiegato che ricorda questi risultati, gli avvenimenti, eccetera, perché li lega ad avvenimenti della società. Certo, per esempio potrei fare... Però a me sembra strano che in una partita, in un campionato di Serie A, che sono 38 partite, lei lega 38 avvenimenti legati alla sua vita per quel campionato, per esempio. Sì, perché se è capitato un evento particolare, vabbè, poi diciamo in alcuni casi magari c'è un'opera di maggiore memorizzazione... Interviene anche lo studioso, lì immagino. Sicuramente, lì poi si va anche a studiare. Per esempio, anche poi, quelli risultati o formazioni della Juve, ho giocato la Juve di 80-90 anni fa. Quelli sono andati a rivederlo. Assolutamente. Mi ha molto appassionato proprio la storia della Juve del quinquennio, quello di cui è stato guagliato il record proprio... Adesso. Proprio quest'anno. La Juve degli anni 30, episodi di un tipo di gioco molto lontano dal calcio odierno, episodi molto curiosi riguardanti i giocatori, il presidente, allenatore di quella fase storica, cose che sicuramente sono del tutto lontane dal calcio odierno. Lo studioso va d'accordo col tifoso? L'ho studioso di Calcio. Della Juve? Sì, sì, sì. Penso di sì. Capita un periodo di scoramento, perché quando la Juve è andata in serie B, lo scandalo calciopoli... Allora, io ho detto anche che seguo la Juve più nelle sconfitte che non nelle vittorie. Però le hanno fatto tutte domande sulla vittoria e la Juve, eh. Allora, questo l'ho notato, sì. Che sono più facili da ricordare. Adesso vado un po' a puzzecchiarla. Io ricordo invece altrettanto bene le sconfitte. Per esempio, ha perso sei finale di Coppa dei Campioni, io ricordo benissimo le date e i luoghi in cui si è giocata. E la formazione... E la formazione... Anche la formazione. Nella prima, per esempio, c'era un giocatore di scalea, tra l'altro, che è il luogo dove insegnolo... Longo book. Ce lo ricordiamo, ce lo ricordiamo. Senta, il giocatore simbolo della sua Juve ideale, chi è? Allora, diciamo, a me non piace fare questo tipo di discorso, anche per esempio chi è, diciamo, il ciclista più forte di tutti i tempi, il giocatore... Perché ogni epoca, diciamo, ha il suo campione. Diciamo, nell'epoca iniziale sicuramente era molto legato a Platini, ma anche all'allenatore Trapattoni. Ce lo ricorda anche Trapattoni giocatore? No, Trapattoni come allenatore. Trapattoni come allenatore. Ah, come giocatore giocava nel Milan. Perfetto. Sono legatissimo, forse la squadra a cui sono più legato, perché come tutti, credo, tutti i tifosi sono legati, soprattutto la squadra... Dell'infanzia. Dell'infanzia. Quindi era la Juve di Platini, per intenderci. Poi, ovviamente, comunque, quindi in quel caso, diciamo, Platini... Poi sicuramente Del Piero è stato un giocatore che ha caratterizzato un ventennio e sicuramente sono legato molto a lui. Poi, diciamo, c'è da dire, riguardo, dato che parlavamo, accennavamo prima a Calciopoli, che è il fatto che Buffon abbia rinunciato alla possibilità di vincere il pallone d'oro restando alla Juve in Serie B, quando aveva offerte da tutte le parti, sicuramente una cosa che va a suo grande merito, quindi della Juve di oggi sicuramente quello a cui sono più legato è Buffon. Buffon. Senta, noi abbiamo letto anche sul sito della Juventus, che hanno pubblicato che lei sarebbe andata a rischiatutto presentandosi sulla storia della Juventus. Questa non la sapeva? È uscita anche sul sito della Juve. Juventus, proprio sul sito ufficiale. Certo, certo, perché lei sarebbe andato alla, insomma, immagino che sia, glielo la dico io, è uscito sul sito della Juventus che lei sarebbe andato a rischiatutto. Su sito di tifosi della Juve, sì, ma proprio sul Juventus. Mi pare di ricordare, non vorrei adesso ricordare io male, ma che fosse il sito ufficiale. A questo punto la domanda non gliela faccio, però quindi lei, non è che per caso gli è stato coinvolto nei festeggiamenti per lo Scudetto, no, assolutamente. Ha ricevuto complimenti alla Juve? No, no. Nemmeno. Senta, adesso, quando noi l'abbiamo visto in tv, c'è un salto fino a ottobre, abbiamo capito. Sì, sì. Diciamo che in palinzesto, originariamente, la trasmissione avrebbe dovuto essere di 10 puntate a partire da febbraio a finire d'aprile, poi per motivi interni alla RAE si è deciso di realizzare queste due puntate pilote, che tra l'altro a livello di onditi sono andate entrambe molto bene. nella seconda, tra l'altro quella in cui ho partecipato, aveva contro un colosso come ciao a Darwin ed è andata anche molto bene. In termini, in termini, in termini, poi da ottobre inizierà la gara della propria con i concorrenti, come siamo abituati a ricordare. Sì, sì, no, a cadenza settimanale, sì. E lei dovrà andare lì ogni giorno? Sì, io sono attualmente, durerò come campione in carico. Tu vai campione in carico. E noi le auguriamo di andare avanti il più possibile. Il suo rientro, invece, com'è stato? A scuola, in paese? È stata un'emozione, quella altrettanto grande, perché a scuola è stato proprio un trionfo. Ogni classe mi ha festeggiato, diciamo, in maniera molto bella ed emozionante, appunto, per me. Anche i colleghi. Più di quanto io mi sarei aspettato. E anche nelle mie zone, non solo Cleto, ma anche Damantea. Appena esco di casa... Il caffè è offerto, insomma. Sì, ma anche di più. C'è un continuo... Complimentarsi. Sì, una continua dimostrazione d'affetto da parte anche di persone che, diciamo, non conoscevo, Diamantea, per esempio. Andando sabato ho fatto una passeggiata sul corso principale e mi fermavano tutti continuamente. 200 metri percorsi in un'ora e mezza. Ha detto. E lei ha raccontato sempre la stessa cosa, in pagina. Senta, adesso parlo al tifoso, ma quest'annata particolare che ha vissuto la Juventus, al di là della vittoria finale, ma quei mesi in cui sembrava che la squadra zoppicasse, il tifoso Stefano Rovino come l'ha vissuto? Allora, sono stati davvero dei momenti bui, però dava tranquillità al tifoso proprio l'atteggiamento dell'allenatore, quel discorso che gli faceva riguardo gli step, dobbiamo valutare la squadra, non nelle prime giornate, ma una prima valutazione si farà a Natale, una seconda a Marzo e poi vedremo a Marzo in che situazione ci troveremo e poi da lì vedremo come ci troveremo a Maggio. Tra l'altro, egli sembrava allora molto ottimista, invece le cose sono andate anche meglio di quanto lui pensasse, perché egli comunque era convinto che si sarebbe risolto il campionato all'ultima giornata a favore della Juve o di un'altra squadra, invece abbiamo vinto con... Ma in quel periodo lì lei non ha mai pensato o sperato magari in un risultato di Allegri? No, io ho avuto sempre estrema fiducia in Allegri, anzi mi danno fastidio proprio il fatto che nello sport ci sia spesso memoria corta, cioè ci si dimentichi... C'è lei, insomma, per me ti ha abbattuto! Sì, per esempio un grande merito di Boniperti a proposito delle storie della Juve si ebbe nel quarto anno della presidenza, non della sua presidenza, della panchina Trapattoni, della gestione Trapattoni, perché ci furono dall'ottava alla quindicesima giornata sei sconfitte su otto incontri e Trapattoni Diciamo, era arrivato quasi alle dimissioni, invece Boniperti lo ha trattenuto e da lì poi sono nati tutti i triomiti È iniziata la Juventus di Trapattoni Diciamo, aveva già vinto due scudetti, però non aveva ottenuto successi internazionali, poi invece da lì sono nati i vari successi internazionali Non ebbe la stessa fortuna un altro signore che si chiama Ranieri, tanto celebrato in questi giorni Sì, diciamo che era anche diversa la dirigenza Diciamo, quella attuale è molto culata secondo me Lei piace di più rispetto a quella dell'epoca di Ranieri Sì, diciamo che quella era poi più una gestione quasi diretta della Fiat dovuta al fatto che appunto la Juventus era in notevolissima crisi Quella attuale mi sembra molto culata con un esperto come Marotta Diciamo, è una gestione Leggere che invece il Crotone è andato in Serie A? Allora, questa è sicuramente una cosa che va a piacere Io sono sempre, ovviamente, fra le squadre calabresi quella per cui propendo il centro della provincia di Cosenza E il Cosenza, che seguivo anche negli anni 90 quando avevo la possibilità, diciamo, da studente universitario Io ho studiato tra l'Unical Però sono stato anche tifoso della Reggina quando la Reggina è stata in Serie A Ora che ci sia un'altra squadra che arriva nella massima divisione Quindi lei è il posto prenotato all'uscita, ce l'ha immagino, per quanto ci sarà crotone a Juventus Ah sì, quello sicuramente Ma se lo ricorda che la Juve venne qua con la Reggina, ha perso tre volte 2 a 1 Sì, una volta già il campionatore Lì il calabrese era più per la Reggina o per la Juventus? C'è stato un anno in cui la Juventus aveva già, nel 2003, aveva già vinto lo scudetto in realtà Quindi in quel caso era ininfluente il risultato e quindi poteva attivare tranquillamente per la Reggina Grazie al professor Stefano Rofino per essere stato nei nostri studi Grazie a voi per averci seguito fin qui Alla prossima, in bocca al lupo Grazie Grazie